amici di battista 70 phone per fornirvi un servizio sempre migliore oggi abbiamo acquistato una videocamera in hd della sony con lenti car zeiss volevo un attimino vedere con voi stasera di testarla proviamo innanzitutto lo zoom e andiamo a vedere nei particolari senza sfocare possiamo vedere una definizione elevatissima dei particolari come vedete possiamo vedere benissimo i tasti riusciamo a vedere anche i granelli di polvere e le ditate qui definizione molto alta e non c'è che dire bello un bello strumentino anche l'evidenza dei particolari del display molto bella adesso andiamo un attimo a zoomare indietro sblocchiamo intanto vi faccio vedere la mia nuova home ho installato beautiful widgets andiamo a zoomare pian pianino che dire definizione veramente veramente spettacolare possiamo vedere benissimo veramente tutti tutti i nostri widgets sono curioso un attimo di vedere la navigazione internet vedere come si può vedere il sito come vi dicevo è solo un test niente di niente di che andiamo zoomiamo pian pianino arriviamo alla massima risoluzione ok c'è da dire che si vede veramente bene dobbiamo zoomare ancora un po' ok quella è la massima risoluzione direi che abbiamo fatto un buon acquisto cosa ne pensate definizione veramente 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 molto alta mi fa impazzire come si vede il particolare qua era solo un veloce test volevo vedere un attimino come si vede tra poco lo metterò in upload un saluto da loris aglias battista 70 per battista 70 phone ciao